Come va e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Di cosa parliamo oggi? Di ben due notizie interessanti che riguardano la patente e il reddito di cittadinanza. Ma andiamo con ordine. Partiamo con la conversione in legge e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto infrastrutture perché arriverà un contributo per chi prende la patente e anche l'abilitazione alla guida professionale. Si chiama infatti bonus patente e ha un valore che arriva fino a 1000 euro. Questo bonus è rivolto a tutti i giovani sotto i 35 anni di età ed anche a chi prende il reddito di cittadinanza oppure riceve degli ammortizzatori sociali come per esempio la NAS. Il bonus patente è un contributo che viene erogato come rimborso spese a tutti coloro che vogliono diventare degli autotrasportatori professionali e che quindi devono conseguire la patente e l'abilitazione alla guida professionale. Quella che si chiama CQC. Il rimborso del bonus è pari al 50% delle spese pagate per prendere la patente e può arrivare fino a 1000 euro e si può richiedere nel periodo compreso tra il primo di gennaio 2022 e il 30 di giugno 2022. Inoltre il testo del decreto ha previsto anche altre novità per la patente e sono prevalentemente due. La validità del foglio rosa passa da 6 a 12 mesi. Infatti questa è una novità decisa già durante la pandemia per far fronte alla situazione di emergenza. E il secondo punto riguarda l'esame di guida per la patente B che potrà essere ripetuto per tre volte. Poi un altro argomento molto interessante riguarda i rinnovi della patente e la revisione auto. Bisogna fare molta attenzione al calendario delle scadenze quindi ormai lo sappiamo la proroga dello stato di emergenza quella dal 31 di dicembre al 31 di marzo prevista dal decreto legge 221 del 2021 ha avuto delle ripercussioni un po su tutto e quindi anche sulla patente e le revisioni auto moto ciclomotori eccetera eccetera. Così oggi vediamo un piccolo calendario delle scadenze. La nuova data da segnalare sul calendario è il 29 di giugno perché in quella data scade il termine dei 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza. Infatti la proroga al 29 di giugno vale per la guida in Italia con documenti che siano ovviamente stati rilasciati da autorità italiane e la cui scadenza iniziale era compresa nel periodo di durata dello stato di emergenza quindi fino al 31 di marzo di quest'anno. Tra l'altro la stessa proroga vale anche per tutti i fogli rosa proprio come vi ho detto prima nel video. Poi abbiamo anche la questione delle revisioni degli automezzi. Il 31 di gennaio scadeva la revisione per chi aveva la scadenza iniziale a marzo del 2021. Poi entro il 28 di febbraio tocca a chi aveva la scadenza ad aprile del 2021. Poi entro il 31 di marzo a chi aveva la scadenza a maggio 2021 e dentro il 30 di aprile a chi aveva la scadenza a giugno del 2021. Mentre invece come ultimo punto non c'è nessuna proroga per chi ha le scadenze iniziali a partire da luglio 2021 in avanti. Bene il video finisce qui ti ringrazio per avermi guardato. Se hai delle altre richieste di video e vuoi che ti parlo di qualcosa in particolare fammelo sapere qui sotto nei commenti così mi posso organizzare e ti posso preparare un video dedicato. E come sempre ricordati di iscriverti al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così non perderai nessuna prossima novità. Con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube. Ti aspetto. Ciao ciao